Benvenuti al nuovo appuntamento con luponchio.it Finalmente è arrivato il momento che tutti aspettavamo, ovvero l'uscita ufficiale di Windows 10 Un sistema operativo rinnovato, molto carino e al passo con tempi Andiamo a scoprirne pregi e difetti in questa panoramica La prima grande novità di questa versione di Windows è sicuramente il ritorno del menu start Menu start che va a sostituire l'interfaccia metro di Windows 8 Infatti qui nel menu start, oltre alle classiche informazioni tipiche di un menu start Ovvero tutta la lista delle applicazioni, abbiamo sulla destra uno spazio riservato alle tile Tale menu può essere ridimensionato in altezza e larghezza in modo da far stare più tile Oppure organizzarle visivamente in un altro modo Ad esempio possiamo organizzarci orizzontalmente o verticalmente a seconda di quanto ingrandiamo il menu start Dunque una personalizzazione in più per l'utente Come vi dicevo sulla destra abbiamo le tile Tile che come in Windows 8 possiamo ridimensionare, possiamo spostare, possiamo cancellare Possiamo organizzarsene come meglio crediamo In modo da avere un'interfaccia personalizzata a nostro piacimento Sulla sinistra invece abbiamo le applicazioni più usate, molto utili Infatti quasi sempre sono riuscito a trovare le applicazioni senza andare in giro per il mondo a cercarle Abbiamo poi le applicazioni aggiunte di recente Abbiamo un collegamento rapido all'explora file Un collegamento rapido alle impostazioni Possibilità di riavviare il computer direttamente da qui Dunque molto più veloce rispetto a Windows 8 E ovviamente link a tutte le nostre applicazioni Che vengono organizzate in verticale e raggruppate in cartelle qualora ce ne fosse il bisogno Dunque un menu start molto più funzionale, molto più intuitivo Rispetto all'interfaccia metro che eravamo abituati ad avere in Windows 8 Tale interfaccia metro la ritroviamo nella modalità tablet Una modalità molto interessante se disponiamo di un tablet o di un pc convertibile ad esempio O un pc con il pannello touch Attivando questa modalità la possiamo attivare direttamente dal centro di notifiche Utilizzando il togo rapido E verremo catapultati nell'interfaccia metro che abbiamo conosciuto in Windows 8 Ma con alcune interessanti modifiche Nella navbar infatti troviamo 4 pulsantini Pulsante start, pulsante back, pulsante di cortane e pulsante del multi desktop Dunque molto più facile muoversi tra le applicazioni Una grossa differenza con la modalità normale è che qui le applicazioni metro andranno a tutto schermo E non avremo la possibilità di accedere al desktop Dunque è una modalità molto utile se abbiamo un tablet E vogliamo passare del tempo senza essere molto produttivi tra le applicazioni o giochini che troviamo nel Windows Store Come avete intuito prima abbiamo il centro di notifiche Un centro in cui come suggerisce il nome vengono raccolti tutti i tipi di notifica che il nostro computer ci manda Quindi avremo le notifiche della posta, le notifiche del calendario e le notifiche delle singole app Notifiche che possiamo impostare e selezionare all'interno del menu impostazioni Possiamo scegliere quali applicazioni possono mandare notifiche Dopo all'interno di questo centro di notifiche possiamo cancellare le singole notifiche Possiamo interagire con esse molto velocemente Oppure cliccandoci possiamo entrare nell'applicazione di competenza Nel basso abbiamo dei togo rapidi che possiamo anche espandere In cui possiamo per esempio avviare OneNote con EtherCA periferiche esterne Attivare la modalità tablet come vi dicevo prima Oppure spegnere e accendere wifi, bluetooth, la modalità aereo, risparmio energetico Insomma le classiche impostazioni che potete vedere dalle immagini Che permettono la gestione del nostro dispositivo Già che ci siamo parliamo della barra delle applicazioni Barra delle applicazioni che viene un attimo rinnovata La troviamo scura ma possiamo cambiare il colore nelle impostazioni Non preoccupatevi E nell'estremo sinistro come al solito abbiamo il pulsante Start Seguito da Cortana in cui possiamo scrivere dentro oppure direttamente parlare Ma vedremo più tardi Poi abbiamo il pulsantino per il multi window che vi spiegherò dopo E le classiche icone con le applicazioni aperte Applicazioni che come al solito possiamo bloccare sulla barra delle applicazioni Per avere dei collegamenti rapidi Abbiamo poi la parte dove ci sono le icone rapide In cui possiamo appunto aprire il centro di notifiche Possiamo aprire velocemente il calendario Tornare al desktop e avere tutte quelle iconcine di riferimento Delle applicazioni per esempio background che siamo soliti avere in tutti i Windows In questa versione di Windows fa la sua comparsa Cortana Ovvero l'assistente vocale di casa Windows che potremo trovare anche nei Windows Phone Cortana è richiamabile scrivendo tramite tastiera nel campo di ricerca Oppure tramite il comando EICORTANA EICORTANA Che tempo farà domani? Le previsioni indicano che nuvolosità prevalente Con una massima di 29 e una minima di 20 Tramite questo comando vocale diciamo che capisce abbastanza bene quello che gli chiediamo Anche se siamo a una certa distanza Poi chiaramente dipende dal PC e dal microfono che abbiamo Abbiamo Cortana, abbiamo una panoramica delle informazioni che ci possono essere utili Quindi abbiamo Meteo, abbiamo le ultime notizie E possiamo accedere tramite sulla sinistra Possiamo accedere alle impostazioni Possiamo accedere sui pro memoria inseriti E possiamo modificare vari parametri che ci aiutano nella ricezione vocale Devo dire che Cortana è un risultato molto utile Sia per ricercare nel web, sia per ricercare nelle applicazioni Oppure per domandargli qualcosa vocalmente Quando per esempio ho le mani impegnate Dunque veramente un plus non da poco per questo nuovo sistema operativo Cambiamo poi dei cambiamenti nella modalità di gestione delle finestre Infatti se vi ricordate con Windows 8 non potevamo aprire Non potevamo ridurre a finestra un app Metro Ma ci toccava eseguirla tutto schermo Al massimo potevamo splitare la vista con due applicazioni Metro Una desktop Mentre in questo caso con Windows 10 possiamo mettere in finestra le app Metro Dunque veramente molto molto più produttivo Possiamo infatti avere la posta, avere il nostro browser Avere un'applicazione Metro in background E possiamo veramente lavorare in modo più appropriato Rimane la split view Possiamo trascinare, se trasciniamo sugli estremi sinistri e destri dello schermo Un'applicazione, una finestra, una qualunque cosa Verrà ridimensionata automaticamente per fare la vista splitata Però abbiamo una cosa in più Infatti se trasciniamo le finestre agli angoli, ai quattro angoli del nostro display Tali finestre verranno splitate in quattro parti In modo da avere quattro finestre operative allo stesso modo E lavorare molto molto più facilmente Magari questa è una cosa che è più utile nei schermi di dimensioni elevate Magari in 10 pollici, non penso che sia così funzionale Però ci sta Ovviamente con questa nuova versione abbiamo avuto un restyle anche delle app Metro Per prima cosa il browser Browser che Microsoft ha coniato Edge Si tratta di un browser internet molto carino, molto minimale Con i comandi raggiungibili molto facilmente E veramente molto reattivo Ho fatto alcuni test nel nostro sito e veramente risulta molto fluido e versatile Diciamo che lo sto usando anche se associato a Chrome Dove ovviamente ho tutto sincronizzato e non posso fare a meno di utilizzare Chrome Però veramente una marcia in più per questo browser Che secondo me è veramente utile se abbiamo un tablet da giochi chiare con internet È presente inoltre nella modalità di lettura Che permette di riorganizzare un articolo Come potete vedere in sua ripresione E organizzare immagini e testi in modo da leggerlo in modo ordinato Senza banner, senza pubblicità, senza tutti gli altri fronzoli che ci sono in una pagina web Inoltre possiamo anche scaricarci questo articolo in modo da poterlo leggere Dovunque ci troviamo Altra applicazione è Posta Ovvero un client main Qui possiamo associare vari account Ho inserito i miei classici 4 account che utilizzo quotidianamente Non ho avuto problemi Soprattutto con le notifiche Notifiche che finalmente arrivano Non come Windows 8 o Bar 8.1 Che non arrivavano a random quando voleva E non si capiva niente Praticamente era inutilizzabile Qua invece è molto molto fruibile Molto bello Mi sono trovato bene E a seconda di come ingradiamo la finestra Possiamo avere i vari menu espansi Dunque se riduciamo la finestra piccola Abbiamo solo la mail Se la ingradiamo abbiamo la lista di mail Se la ingradiamo ancora abbiamo anche il menu contestuale in parte Che si può anche ingrandire con un tastino Dunque veramente molto funzionale Per chi lavora tanto con le mail come me Abbiamo poi il calendario Molto molto bello Possibilità anche di sincronizzazione con il calendario Google Dunque molto utile Abbiamo poi altre applicazioni Ridisegnate come foto Molto carina anche questa Che avrà una bella integrazione con Windows 10 anche su mobile Abbiamo poi un nuovo store Completamente disegnato Ridisegnato Molto molto più carino Molto più facile trovare le applicazioni Che sarà ovviamente uno store unico Sia per mobile sia per PC Da lato multimediale Troviamo l'applicazione Grove Music Che ci permette di Ovviamente ascoltare la musica che abbiamo nel nostro dispositivo Ma anche di ascoltare la musica in cloud Simile a Spotify per capirci Molto utile anche qui nel panorama tablet PC mobile In cui possiamo avere tutto sincronizzato Altra applicazione sicuramente molto importante per i gamer È l'applicazione Xbox Che permette anche lo streaming da Xbox Io non ho potuto provare perché non ho un Xbox Però veramente è una cosa molto utile Perché possiamo per esempio portarci via il tablet E lasciando accesa l'Xbox Possiamo giocare dovunque ci troviamo Dunque veramente molto utile Cosa simile a quella che fa Sony con i suoi tablet Ma qui ovviamente sarà molto più diffusa In quanto chiunque ha un PC o un tablet con Windows Magari non ha un Xbox Ma se ce l'ha Avrà un ottimo modo per avere in streaming tutti i suoi giochi Con questa versione di Windows Sono cambiate ovviamente anche le gesture Gesture che io vi mostro sul touchpad del mio Asus Che sono supportate ovviamente dovrete avere un touchpad che supporta le gesture di Windows Tra i gesture sono tap con due dita Abbiamo il classico tasto destro Tap con tre dita possiamo richiamare Cortana E tap con quattro dita possiamo richiamare il centro notifiche Dunque molto veloce Poi con lo swipe verso su con tre dita Possiamo richiamare multi desktop Che tra pochissimo vi spiego Mentre con swipe verso il basso possiamo abbassare una finestra Quando l'abbiamo in esecuzione Dunque vi ho annunciato multi desktop Multi desktop che è una funzione che era già presente nella concorrenza E che mancava in Windows Tale funzionalità permette di avere desktop multipli Ovvero vari desktop in cui organizzare la nostra vita al PC Possiamo per esempio avere un desktop riservato al lavoro Un desktop riservato all'intrattenimento Un desktop riservato alla vita privata Quindi possiamo lavorare simultanea su vari mondi Ovviamente quando apriamo la selezione del multi desktop O tramite gesture o tramite il pulsantino apposito Possiamo spostare le applicazioni che abbiamo aperte nei vari desktop Dunque per esempio possiamo spostare Che ne so una finestra di internet Da desktop 1 al desktop 2 Dunque sono dei mini mondi all'interno del PC Ma dei mini mondi che possono comunicare insieme Dunque molto utile questa cosa per la produttività Che mancava sicuramente in Windows Infine abbiamo le impostazioni ridisegnate Infatti abbiamo delle macro-ari in cui possiamo accedere a vari sottomenu Molto carini, molto ben strutturata In cui evitiamo di perderci tra i meandri delle impostazioni Abbiamo anche la possibilità di ricerca Quindi tanto buona come cosa Diciamo che le impostazioni sono molto chiare Non mi sono perso per cercare una cosa da modificare Dunque anche per l'utente meno esperto Può essere molto utile trovare quello che gli serve Bene, siamo giunti alla fine di questo nostro viaggio attraverso Windows 10 Devo dire che bisogna fare i complimenti a Windows per questo sistema operativo Infatti dopo vari flop, varie difficoltà, vari test È riuscito a sfornare un sistema operativo veramente a passo coi tempi Minimale al punto giusto Moderno e funzionale Molte funzionalità infatti aumentano di molto la produttività E garantiscono una vita serena col PC Devo dire che mi sono trovato molto molto bene Non ho avuto problemi di nessun tipo Al primo video si sono aggiornati tutti i driver necessari E non ho niente da segnalare come errore Ovviamente fatemi sapere la vostra esperienza Fatemi sapere se voi avete riscontrato problemi O se avete qualche dubbio a riguardo di questo sistema operativo Sono curioso di sapere le vostre opinioni Se vi è piaciuto o no Bene, direi che è tutto Ovviamente se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace Che aiuta sempre Condividetelo con i vostri amici E commentate con le vostre opinioni Bene, direi che è tutto Da Marco Gomiero per lupocchio.it Grazie a tutti Grazie a tutti